Il no al referendum costituzionale pone fine al governo, il premier Renzi si dimette, ho perso io, la poltrona che salta è la mia. Questa mattina un colloquio con il presidente Mattarella nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri, poi il premier salirà al Quirinale per rimettere il mandato nelle mani del capo dello Stato. Il PD intanto si prepara alla resa dei conti, fissata per domani la direzione del partito, la minoranza DEM attacca, il risultato dimostra che eravamo nel giusto, ora anticipiamo il congresso. L'attenzione adesso si sposta sulle scelte del presidente Mattarella, se Renzi considererà le sue dimissioni irrevocabili il capo dello Stato avvierà le consultazioni con i gruppi parlamentari per individuare un presidente del Consiglio che abbia la maggior condivisione possibile. Tra i nomi più accreditati, quello del ministro dell'economia Padoan e quello del presidente del Senato Grasso. Basta inciuci, dice il Movimento 5 Stelle che punta ad andare al voto subito con l'Italicum, siamo al lavoro, annuncia il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio per formare la squadra del futuro governo 5 Stelle. E Grillo si appella direttamente a Mattarella, noi siamo disponibili a tutti i passi per le elezioni. Il centro-destra esulta ma si divide sui tempi delle elezioni, Salvini e Meloni chiedono di andare alle urne. Più prudente Forza Italia che vuole prima arrivare ad una nuova legge elettorale, non esclude nemmeno l'ipotesi di un nuovo governo, sempre a guida PD. Sale lo spread con un balzo in avvio fino a 178 punti, mentre le borse europee reagiscono senza panico all'onda del noi alla crisi di governo. Anche a Piazza Affari qualche apprezzione ma senza terremoti. L'agenzia di rating Standard & Poor's ha fatto sapere questa mattina che la vittoria del nuovo referendum per ora non ha impattato sul rating sovrano dell'Italia. E non si sono fatte attendere le reazioni internazionali al risultato del referendum. Se esultano gli anti-euro, Le Pen Farage, che parla di un altro duro colpo all'immagine dell'Unione Europea, si dice invece dispiaciuta la cancelliera Angela Merkel. Fiducia nelle autorità italiane perché il paese è solido, commenta il commissario agli affari economici Moscovici, anche se si spera che la crisi possa avere una soluzione rapida. Buongiorno dal telegiornale della Sette. Dunque, come sapete, dopo la schiacciante vittoria del no al referendum costituzionale, le annunciate dimissioni del Premier Matteo Renzi, che questa mattina ha incontrato il Presidente della Repubblica Mattarella per un colloquio di circa un'ora, nel pomeriggio terrà un Consiglio dei Ministri e subito dopo si recherà al colle per rimettere il suo mandato nelle mani del Capo dello Stato. Poi per Renzi c'è lo scenario interno al PD, con la minoranza Dem schierata per il no, che adesso vuole riappropriarsi del partito. Ho perso io, la poltrona che salta è la mia, ha detto a Caldo Renzi, noi ripartiamo da qui. Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province, il CNEL. Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. Già nella notte al telefono con Mattarella, stamattina un colloquio con il Presidente in Quirinale, nel pomeriggio al colle per le dimissioni ufficiali. La crisi è aperta quando lo spoglio elettorale è appena iniziato, poco dopo mezzanotte Renzi parla a Palazzo Chigi. L'affluenza è da elezioni politiche, il 68,8% non serve aspettare i dati finali. Bastano gli exit poll per disegnare un quadro che con il passare delle ore sarà confermato in peggio. 59,1% per il no, 48,8% per il sì. Una debacle. Il Premier, che nelle ultime battute di campagna elettorale aveva sperato nella rimonta, prende atto, consapevole che la bocciatura è per lui. Dopo ogni elezione resta tutto com'è. Io sono diverso, lascio. Ho perso io e non voi, dice i supporter del sì. Ci ho creduto, ho lasciato un paese migliore di come l'ho trovato. Non pensavo mi odiassero così lo sfogo dietro le quinte. Ora è tempo di rimettersi in cammino, un cammino del quale per ora si conoscono solo i primi passi. A Palazzo Chigi è convocato tra poco un consiglio dei ministri. Si affaccia su Facebook Maria Elena Boschi, che incassa una bocciatura della sua riforma anche nel paese natale La Terina. Speravo in un risveglio diverso. Ora è il momento della responsabilità per mettere in sicurezza la legge di bilancio al Senato. Nel pomeriggio Renzi sarà da Mattarella per consegnare le sue dimissioni. Si diffonde la voce che voglia mollare anche la guida del PD. Di certo è già in agenda la resa dei conti con la minoranza interna, fissata per domani una direzione, che potrebbe però slittare mercoledì. Nell'elenco dei nemici di Matteo Renzi rimane in testa l'opposizione democratica, schierata per il no, che oggi può intestarsi una parte di questa vittoria. E se D'Alema si tira fuori dai giochi, i bersagnani puntano a riprendersi il partito. Avrebbero quasi preferito una sconfitta meno eclatante di Renzi, che permettesse la sua permanenza a Palazzuchigi per poterlo rosolare ancora. Il risultato dimostra che eravamo nel giusto, dice Speranza, che per oggi non chiede di anticipare il congresso. Lo fa invece Francesco Boccia. Fissiamolo a gennaio. Vi dico subito che questo importante lungo pomeriggio politico-istituzionale verrà seguito dalla 7 in diretta con uno speciale condotto dal direttore Ricomentano a partire dalle 16.20. Sì, perché adesso l'attenzione si sposta, come detto, tutta sulle colle, su quelle che saranno le scelte del presidente Mattarella, che nelle intenzioni vuole dare subito al Paese un governo con poteri solidi e che si occupi immediatamente della legge elettorale. Entro il 31 di dicembre, tra l'altro, c'è da approvare anche la legge di bilancio. I nomi più papabili sono quelli del ministro dell'Economia Padoan, del presidente del Senato Grasso. Matteo Renzi, come sentivate, è già salito al Quirinale questa mattina per un incontro informale di un'ora con Sergio Mattarella, un faccia a faccia preparatorio del colloquio ufficiale di questo pomeriggio quando il Premier segnerà le annunciate dimissioni dopo l'ultimo Consiglio dei Ministri, previsto alle 16.30. La parla torna dunque all'arbitro, al Capo dello Stato, che potrebbe chiedere a Renzi di verificare l'esistenza di una maggioranza. Un ritorno alle Camere per un voto di fiducia, per restare a Palazzo Chigi, con il mandato minimo di approvare almeno la legge di bilancio e affrontare l'ineludibile partita della nuova legge elettorale e l'orizzonte possibile della scadenza naturale della legislatura, il 2018. Mattarella non crede che la caduta del governo debba essere la conseguenza inevitabile della bocciatura delle riforme con il referendum. Pensa che si debba, innanzitutto, garantire la stabilità. Se Renzi considererà però le sue dimissioni irrevocabili, Mattarella non potrà che aprire formalmente la crisi di governo e procedere con le consultazioni, secondo la prassi consolidata. Sentirà il suo predecessore, Giorgio Napolitano, i presidenti delle Camere, Laura Boldrini e Piero Grasso, i gruppi parlamentari e i partiti. Tempi rapidi, l'imperativo del Colle è dare al Paese al più presto un governo con pieni poteri. Governo che deve avere il sostegno del PD, che ha la Camera la maggioranza. L'opzione del ritorno immediato alle urne non c'è, deve essere riscritta alla legge elettorale. Quella vigente, l'Italicum, è collegata alla riforma bocciata ed è valida solo per la Camera e a gennaio la Corte Costituzionale si pronuncerà sulla sua legittimità. Potrebbe mettere dei paletti il perimetro per un accordo tra le forze politiche. Tre le tipologie di governo possibili, con diversi profili di Premier. Un governo tecnico, come altre volte è accaduto nella storia di questo Paese, in situazioni di emergenza, con una figura di alto profilo, ricorre il nome del presidente della BCE Mario Draghi, e una maggioranza più ampia di quella attuale, che coinvolga almeno una parte del centrodestra, che per ora si dice indisponibile. La seconda ipotesi è quella di un governo di scopo, per approvare la legge di bilancio e realizzare la nuova legge elettorale con una guida istituzionale. Il Premier potrebbe essere il presidente del Senato, Piero Grasso. Anche in questo caso, la maggioranza parlamentare dovrebbe essere più ampia dell'attuale. La terza soluzione è quella di un governo politico, guidato da una personalità vicina e gradita al Premier, per arrivare a fine legislatura, con il sostegno delle forze che hanno sostenuto il governo Renzi. I nomi più gettonati sono quelli dei ministri Graziano Del Rio e Piercarlo Padoan. E poi ci sono i vincitori, su tutti i 5 Stelle che registrano questa schiacciante vittoria, intenzionati a capitalizzare subito l'esito di questo voto referendario. Pertanto Beppe Grillo chiede elezioni immediate, ribadisce di non essere disponibile a trattare per governi di scopo o tecnici. Nei 5 Stelle poi in rete è partita la discussione interna su quella che sarà la scelta del programma e il futuro leader Premier. Al voto e subito. La volontà del Movimento 5 Stelle di capitalizzare la vittoria al referendum nel più breve tempo possibile è chiara ed esplicita. Insomma, conviene stare alla finestra. Nella notte, prima della conferenza stampa, Beppe Grillo dal suo blog aveva indicato l'unica via da seguire, elezioni e nessuna disponibilità a trattare con le altre forze politiche per governi di scopo o tecnici. Al voto con le leggi che ci sono. Alla Camera il tanto odiato Italicum che favorirebbe i 5 Stelle, mentre al Senato la proposta di Grillo è di fare qualche modifica a consultellum. Il sistema è entrato in vigore a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che due anni fa dichiarò incostituzionali sia il premio di maggioranza che le lunghe liste bloccate senza preferenze. A fare da eco alle parole di Grillo i due uomini forti del Movimento, Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio. Noi siamo pronti per andare al governo, ma decideranno sempre i cittadini italiani sperando che si possa votare il prima possibile. Gli italiani hanno un'alternativa per poter cambiare questo paese? Io credo di sì. Lo faremo coinvolgendo le migliori energie di questo paese, le migliori intelligenze e i migliori entusiasmi per creare una squadra e un programma di governo per andare alle elezioni politiche. La scelta per il programma e il candidato alla guida di un governo pentastellato passa per la rete, anche se non è così scontato che sia Luigi Di Maio il favorito. Le polemiche sul caso Roma potrebbero portare la parte più ortodossa del Movimento, capicciata da Roberto Fico, Carla Ruocco e Roberta Lombardi, a puntare su una outsider, magari Chiara Appendino, stimata da Beppe Grillo e da Davide Casaleggio. Il pallino è in mano a Grillo, che da statuto dovrà indicare le date e le modalità delle elezioni online. E Genova, la sua Genova, dove si voterà l'anno prossimo, potrebbe essere il laboratorio per testare un nuovo metodo, per far votare gli iscritti. Liste contrapposte tra aspiranti consiglieri e aspiranti primi cittadini, con i primi che dovranno scegliere quale candidato sindaco sostenere. Passano i vincenti e i perdenti restano a casa. Questo significherebbe sfidare apertamente Luigi Di Maio e sarebbe match a viso aperto da lascio raddoppia. Ad ora, difficile immaginarlo e soprattutto vincerlo. Adesso le agenzie stanno battendo delle dichiarazioni che riguardano il Presidente della Repubblica, Mattarella, che ha detto a fluenza di ieri, al referendum, testimonia di una democrazia solida. Sente Premattarella parla di clima politico sereno e rispettoso, ma dice anche che adesso ci sono delle scadenze da rispettare. Adesso le istituzioni rispettino, dunque, gli impegni presi. Dicevamo dello scenario all'interno dei 5 Stelle, ancora più complesso quello all'interno del centrodestra, che vive di più anime, con Matteo Salvini, leader della Lega, che come Grillo chiede di andare immediatamente al voto, con lui anche Giorgia Meloni. Dall'altra parte, però, c'è Silvio Berlusconi, che in attesa del giudizio dell'Alta Corte di Strasburgo, sicuramente non è d'accordo con il leader della Lega sull'andare, per esempio, alle primarie all'interno del centrodestra. Vediamo. Il centrodestra ha vinto il referendum, ma adesso spodestato Renzi comincia il lavoro più complicato, quello di mettersi d'accordo su cosa fare. Salvini ha ricevuto ieri sera 122 chiamate, tutte senza risposta, ma fra queste non c'era quella di Silvio Berlusconi. Prima o poi si sentiranno, ma per dirsi cosa non è ancora chiaro, perché il segretario della Lega vuole votare subito, con qualsiasi legge elettorale. Ci sconcerta il toto premier di queste ore, quindi non ci uniamo né ci uniremo al toto nomine, al casting, Padoan, Del Rio, Franceschini, Grasso, se quando il presidente Mattarella ci convocherà, noi ribadiremo alle elezioni subito, il prima possibile, con qualunque legge elettorale, la consulta consegnerà al Paese. Mentre Berlusconi vorrebbe fare una legge elettorale proporzionale, fumo negli occhi per Salvini, e soprattutto difficilmente potrà accettare la proposta dell'alleato leghista di scegliere il candidato del centrodestra con le primarie. Le facciamo anche a gennaio col freddo, dice il segretario della Lega. Il capo di Forza Italia spera ancora di tornare in campo da leader, grazie alla Corte Europea di Strasburgo, e poi non ha tutta questa fretta di andare a votare, come faceva a capire ieri a caldo Brunetta. Salvini è bravissimo, la legge elettorale ovviamente deve essere fatta, perché l'Italicum è morto. La maggioranza c'è, il PD ha i numeri per fare maggioranza in Parlamento, noi ovviamente in Parlamento daremo il nostro contributo per la legge elettorale, dipende da quanto tempo ci mettiamo a fare la legge elettorale. Si può votare in primavera 2017, si può votare in autunno 2017, si può votare a febbraio, scadenza naturale 2018. Non è un problema. Più facile per Salvini sarà trovare un accordo con Giorgio Ameloni, che anticipa quello che dirà a Mattarella alle consultazioni. Vogliamo votare subito? L'altra questione è NCD. Non rovinatemi il lunedì, dice il segretario leghista, ma anche di questo dovrà discutere con Berlusconi. Andiamo adesso ad analizzare il voto, a leggere quello che è stato il voto degli italiani. La vittoria del no, certo che parte dall'altissima affluenza, percentuale altissima, quella dell'affluenza per una valanga di no, favoriti appunto da questa affluenza, che è arrivata soprattutto dal sud e dalle isole, il record spetta alla Sardegna, con il 72,2% di no, mentre il sì si è affermato in Toscana, Emilia Romagna e Trentino, oltre che nel voto degli italiani all'estero. L'auspicata alta affluenza alle urne, che nei giorni antecedenti il voto, si diceva, avrebbe portato vento positivo a sostegno della riforma costituzionale, alla fine ha superato sì ogni previsione. Il 65,47% di elettori si è recato alle urne, ma allo stesso tempo ha polverizzato ogni pronostico. Il no ha battuto il sì con il 59,11% contro il 40,89%. Un risultato sicuramente inaspettato nelle dimensioni, ma è evidente già dai primi minuti di scrutinio, sul quale ha avuto un peso assai marginale anche il controverso voto degli italiani all'estero. Lì solo il 30,74% degli eventi diritto è andato a votare, nonostante il sì dei connazionali lontani da casa abbia superato di gran lunga il no con il 64,70% dei voti a favore contro il 35,30%. In Italia, invece, l'affluenza è stata altissima, pari al 68,48% degli eventi diritto al voto. A parte tre regioni, Trentino, Alto Adige, Emilia Romagna e Toscana, dove i sì, seppur di poco, hanno superato i no, la debacle per il referendum costituzionale e per il governo è stata totale. Soprattutto nelle isole e al sud è arrivata una valanga di no. I margini più ampi in Sardegna, Sicilia, Campania, Puglia e Calabria. Seguono a ruota Basilicata, Abruzzo, Lazio, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Molise e Liguria, dove la vittoria del no si attesta comunque oltre il 60%. In Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Marche e Umbria, il margine si riduce, con il no che supera essi di pochi numeri percentuali. Gli analisti, vediamo quello che è il risultato del voto italiano sui mercati, sulle borse, gli analisti sembrano concordare, dunque l'Italia va avanti, anche dopo il referendum, certo ad aumentare è la volatilità, le banche restano sotto osservazione. Di fatto il contraccolpo c'è stato, forte addirittura per quanto riguarda il mercato valutario, a spese dell'euro, più forte di quello registrato per la Brexit nelle ore immediatamente successive all'uscita della Gran Bretagna. Ma poi non c'è stato panico sui mercati, tutto è rientrato nella norma, anche Milano che era partita in rosso ha girato addirittura in positivo e poco fa perdeva circa mezzo punto. Lo spread poco mosso, dopo un balzo, un rialzo, fino a 178 punti, è rientrato sui 169 punti base. Senza panico e senza grandi sussulti, il lunedì post-referendario di Piazza Affari è cominciato così e in questo modo sembra che possa proseguire, entrando e uscendo dal territorio positivo, di fatto senza allontanarsi mai da una sostanziale parità. Qualche apprezzione solo in apertura quando l'indice era sceso quasi di due punti percentuali, mezz'ora dopo però era già sopra la linea di galleggiamento. Anche per lo spread c'è stato un balzo iniziale che lo aveva portato a 178 punti, poco dopo però è tornato a stazionare sui valori degli ultimi giorni, sotto i 170 punti. Insomma, a metà giornata, il tanto temuto effetto tsunami sui mercati a seguito della vittoria del no e delle conseguenti dimissioni del Presidente del Consiglio non c'è stato. E già dal mondo finanziario e dagli stessi analisti che si erano detti molto preoccupati per la tenuta delle borse in caso di instabilità politica in Italia è arrivata una correzione di rotta. Così Standard & Poor's ha fatto sapere questa mattina che la vittoria del no al referendum sulla riforma costituzionale per ora non ha impatto sul rating sovrano dell'Italia. Certo, hanno spiegato gli analisti dell'Agenzia di rating americana dal punto di vista della prospettiva della stabilità politica e dell'efficacia la riforma avrebbe comportato dei benefici. Tuttavia, il risultato del referendum non ha un impatto immediato sul merito di credito dell'Italia in quanto non ha ricadute per le politiche economiche o di bilancio dell'Italia se non i probabili cambiamenti di breve termine nella politica italiana. Anche gli altri analisti sembrano concordi oggi sul fatto che l'esito del referendum non possa frenare le politiche economiche dell'Italia. Il problema resta ancora quello legato alle sofferenze del settore bancario e in particolare al tentativo in atto di mantenere in vita Montepaschi. Oggi gli advisor, Mediobanca e JP Morgan faranno il punto per valutare l'effetto voto sull'operazione di salvataggio che ha avuto come grande sponsor proprio il governo Renzi. Intanto il titolo MPS in borsa viaggia senza grandi sussulti e anche questa è una buona notizia. E poi c'è l'Europa la sua reazione c'è da dire intanto che il ministro dell'economia Paduan ha annullato oggi il suo viaggio non parteciperà all'Eurogruppo a esultare la Le Pen l'euroscettico Farage che parla di martellata all'Europa chiedendo a Bruxelles subito elezioni c'è da dire che invece il commissario agli affari economici Moscovici parla di Europa toccata dall'esito del voto ma fiducia nelle autorità italiane perché il paese è solido qualche preoccupazione invece arriva dalla Germania che sollecita di proseguire nella strada delle riforme. Nervi saldi ma senza sottovalutare la portata e le possibili conseguenze anche a livello comunitario della vittoria del no al referendum. L'Europa si sveglia non sotto shock ma con qualche preoccupazione in più. Con Matteo Renzi di missionario è un'assenza pesante all'Eurogruppo che si è aperto questa mattina a Bruxelles quella del ministro dell'economia Padoan che sarebbe dovuto andare a spiegare come il governo italiano intende aggiustare la manovra economica 2017 e centrare così gli obiettivi fissati dal patto di stabilità. Il ministro manda un sostituto ma non è la stessa cosa. Dopo la Brexit e la vittoria di Trump alle elezioni americane per l'Unione la sconfitta di Renzi non è una buona notizia proprio ora che a Bruxelles tiravano il fiato per la vittoria in Austria di Van der Bellen che aveva scacciato lo spettro populista incarnato dall'uomo dell'ultradestra lo sconfitto Norbert Hofer. Berlino oggi non nasconde qualche preoccupazione. Al messaggio della cancelliera tedesca Angela Merkel dispiaciuta per le dimissioni di Renzi segue l'invito del suo governo per bocca del ministro delle finanze Schäuble affinché le riforme avviate tre anni fa da Renzi vadano avanti. E poi un chiarimento per sgomberare il campo da possibili speculazioni. Non c'è alcuna ragione per parlare di eurocrisi dice Schäuble. Insomma il timore che il voto italiano possa soffiare sul vento anti-europeista è concreto. Non a caso sia la Le Pen in Francia sia uno dei grandi sponsor della Brexit come Farage festeggiano quello che definiscono all'unisono un voto contro l'Europa e le sue istituzioni. A Bruxelles invece si prova a fare fronte comune. Siamo rimasti tutti colpiti dal risultato del referendum in Italia dice al suo arrivo all'Eurogruppo il commissario degli affari economici Moscovici Renzi aggiunge è stato un buon primo ministro e ha fatto riforme importanti l'Italia è un paese solido e saprà cosa fare. Fiducia anche nelle parole del presidente dell'Eurogruppo Dicerblom ma con un avvertimento il voto non cambia la situazione economica delle banche italiane i problemi di oggi sono quelli di ieri ma l'Italia è una democrazia forte con delle istituzioni forti un invito chiaro ad andare avanti o l'Europa è pronta a tirare fuori di nuovo il cartellino rosso. Ma a preoccupare i mercati internazionali ci sono anche i tweet del presidente neoeletto degli Stati Uniti Donald Trump tweet che hanno mandato su tutte le furie i vertici politici cinesi e dopo la telefonata con il presidente di Taiwan adesso si temono anche pesanti ripercussioni. Trump non lascia anzi raddoppia e con due tweet replica la Cina che aveva criticato la sua telefonata volutamente il rituale alla presidente di Taiwan. Il Taekun questa volta attacca sui dazi la politica monetaria e le spese militari del gigante asiatico. Pechino ci ha mai chiesto se andava bene svalutare la loro valuta rendendo difficile per le nostre imprese competere tassare i nostri prodotti che entrano nel loro paese mentre gli USA non tassano i loro o costruire un massiccio sistema militare nel mar della Cina del Sud non penso proprio ha scritto il presidente eletto. ma il governo cinese questa volta non raccoglie la sfida e si limita a ribadire la propria posizione sabato invece Pechino aveva sporto formale protesta per la telefonata tra il magnate e Tsai la prima chiamata ufficiale dopo 38 anni tra un presidente statunitense seppur non ancora in carica e un leader taiwanese esiste una sola Cina e Taiwan ne fa parte integrante aveva spiegato il ministro degli esteri Lu Kang speriamo che questa linea continui a essere vista come il principio fondamentale delle relazioni tra i due paesi taiwan dal canto suo continua a gettare acqua sul fuoco e fa notare come i rapporti con Cina e Stati Uniti siano entrambi importanti e non in conflitto il confronto duro con Pechino non tornerà garantisce il governo di Tapei che smentisce un incontro tra Trump e Tsai il mese prossimo intanto il presidente eletto non si è limitato ad attaccare la Cina sui dazi e la svalutazione dello yuan ma ha anche minacciato di punire le aziende USA che decidono di trasferire le proprie attività all'estero il taiwan pensa all'introduzione di una tassa di confine la cui aliquota potrebbe arrivare al 35% mentre vorrebbe incentivare le imprese che restano negli Stati Uniti con un drastico taglio di tasse Trump che ha praticamente ultimato la sua squadra di governo allo sviluppo urbano ha appena nominato Ben Carson medico di colore che aveva tentato anche la corsa nelle primarie del partito repubblicano manca la casella più importante quella di segretario di Stato la rosa si sarebbe allargata e comprenderebbe almeno sette nomi anche se il favorito è ancora Mitt Romney Tutte le altre notizie tra qualche istante in cronache con Caterina Bizzarri comprese quelle sportive dato che oggi è lunedì ma vi ricordo ancora alle 16.20 torna il direttore Enrico Mentana per seguire l'evolversi di questa crisi di governo in seguito al voto referendario sono le 13.54 ci fermiamo qui grazie e noi ci vediamo domani grazie a tutti